Grazie Mauro, per me è un grande piacere essere qui stasera perché Mauro non è solo un rivenditore che tratta Dainese, ma è uno dei migliori in Europa. Non ce ne sono molti che hanno capito qual è l'importanza di un sistema di questo genere, bene ma veniamo a noi. Il vestito intelligente, perché intelligente? Perché interviene indipendentemente dalla volontà del pilota? Perché di Airstrip è diverso? Perché è intelligente? Perché riconosce da solo l'incidente? Perché è efficace? Copre torace, clavicola, protegge la schiena? Perché è veloce? Lo vedremo, perché è senza cavo? Ma dimenticatevi il cavetto, è affidabile, il primo prototipo lo vedrete, l'abbiamo presentato nel 2000. Infine è certificato, tu sui Deutschland, qual è la differenza? Che quello che promettiamo non è solo quello che diciamo noi, ma è provato. Quindi noi manteniamo le promesse e lo facciamo, e non lo diciamo noi, ma lo facciamo dire ad un ente certificatore rigoroso ed esigente come il Tudus y Deutschland. Vediamo un po' i fatti. Cosa protegge? Allora qua io copro il torace, la clavicola e la schiena. Questo prodotto lavora in associazione con un paraschiena e ovviamente le protezioni per le spalle, per i vomiti, che comunque siete già abituati a portare. Il torace è molto importante ed è la parte con la quale andate a sbattere se impattate per esempio contro la parte centrale di una macchina, poi dipende dal tipo di impatto ovviamente. Diminuisco la forza trasmessa alla schiena del 72% e attenzione, non rispetto ad una schiena nuda, ma ad una schiena protetta da un paraschiena di livello 2. Dier Street funziona senza alcun collegamento fisico con il mezzo, non ci sono cavi. Ecco i sistemi sono il sistema montato sulla moto e il sistema nel gileo nella giacca. Il kit è composto da due sacchi da 6 litri ciascuno come volume. In realtà essendo gonfiati ad alta pressione il contenuto in termini di aria è molto più grande, si arriva a più di 20 litri. Quindi ogni kit moto ha le sue sim card che gli consentono di riconoscere su quali giacca è montata e quindi imparare povero e gonfiare la giacca è giusta e non quella sbagliata. Innoquità, controllabilità, oltre a quello che vi ho detto prima c'è anche proprio quello di controllabilità. Abbiamo preso e abbiamo poi diverse prove. Un pilota, abbiamo fatto andare tra i birilli e senza dirgli niente abbiamo attivato il sistema. Il pilota non deve perdere il controllo del mezzo e non l'ho perso. Questo è importante perché uno dice ma casomai mi si attivasse per qualche ragione perché l'elettronica... non si perde il controllo della moto. Prima di venderlo abbiamo fatto un beta test. Cos'è il beta test? È una prova in anteprima per alcuni clienti. Questi sono i risultati. Vado via rapido. Sono molto soddisfatto e comodo. Uno dice loro andrei obbligatorio. Credo che ad Agnese vada il grande merito di aver investito in qualche cosa che per molti era fantascienza. Un altro dice che da 35 anni usa la moto. Ho pensato che investire in sicurezza fosse un bel regalo per me e per chi mi vuole bene. Non è quello che è stato tamponato. Posso dirvi che non farò mai più un metro in vita mia con la moto senza il mio gilet di Air Street. L'idea migliore da quando esiste la moto. Grazie.